Della serie anche i ladri si specializzano. Hanno messo a segno numerosi furti in negozi di abbigliamento ed accessori di lusso tra Lucca e Firenze. Dopo ogni colpo rientravano nella loro stanza in un hotel a Monte Carlo in provincia di Lucca e qui sono stati rintracciati dai carabinieri di Lucca e di Alto Passo, arrivati a loro dopo un servizio di pedinamento. I due, un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine e una donna di 35, entrambi di origine serba, sono stati denunciati per furto aggravato. La coppia si era specializzata e seguiva un consolidato modus operandi. Entravano nei negozi e dopo aver accuratamente scelto facevano saltare la placca antitaccheggio, occultando la merce sotto il cappotto dell'uomo, modificato con doppia fodera per meglio nascondere l'area furtiva. Dopo con calma si allontanavano. Nella stanza dell'hotel i militari hanno trovato capi di abbigliamento ed accessori per circa 20.000 euro, una pinza modificata per eliminare la placca antitaccheggio e 4.700 euro in contanti con banconote da 500 euro.